Buongiorno Perfetto 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 Un momento E' stop Un momento Un momento Un momento 2-2-20 ok, ok, ok ok, ok, ok ok, 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 ok tranquilla, tranquilla, tranquilla ok, bravissima ok, tranquilla, decisa senza paura senza paura, molto brava ok, ok No, c'è ancora un lavoro che devi fare. No, c'è ancora un lavoro che devi fare. Sai qual è il lavoro? Weißt du, è qui il profilo. Questa è frangola. E un altro classico dei sordetti. E assaggiamo anche questo, no? Prima però assaggiamo il limone. Limone e sorveto più venduti in assoluto. Prepariamo le coppettine e somminizziamo.